Per questo salone ho disegnato il letto dove sono seduta, l'obiettivo era quello di fare un elemento morbido che avvolgesse un po' l'ambiente notte. Lo spunto è stato quello di fare un prodotto diverso da tutta la gamma di letti nuovamobili che fosse avvolgente con queste ali che si piegano e sono flessibili a seconda dell'esigenza e anche dei gusti della persona che lo usa. A me piace tanto leggere e penso sempre quando m'accascio sul letto con il libro in mano e su questa idea che io ho del letto ho cercato di disegnarne uno che appunto sostenesse la testa anche lateralmente. Io nuovamobili l'ho vista cambiare tantissimo in questi anni, adesso l'abbiamo rivista in toto.